ben trovati a tutti questa volta non c'è don angelo vi saluto anche da parte sua e direi che potremmo tenere come filo conduttore di questa puntata questo imperativo non tacere comincio da un fatto che mi è successo pochi giorni fa tornando in aereo da Bari verso Bergamo Oriol Serio su un volo Ryanair a un certo punto lo steward molto simpatico e brillante dice allora adesso passeremo tra i sedili a vendervi dei grattevinci i soldi vanno per un ospedale pediatrico a Firenze mi raccomando comprate il grattevinci se no torniamo indietro a Bari lui era anche molto simpatico quando è venuto vicino me gli ho espresso ci ho pensato su se era giusto o meno ma gli ho espresso la mia perplessità anche qualcosa di più di perplessità dicendo che mi sembrava grave che venisse fatta pubblicità dei grattevinci di tutto questo mondo del gioco d'azzardo diciamo senza neanche dire che è pericoloso crea dipendenza e quindi c'è stato un momento di discussione ma pacifica e cordiale e questo è proprio il segno cioè se anche sul volo non solo ti vendono i profumi e tutte le varie cose ma ti promuovono il gioco d'azzardo vuol dire che diventa proprio una cultura allora io gli ho detto ma e se dovessimo se io dovessi chiederle di accendere una sigaretta ah no le direi di no e allora è più dannoso accendere una sigaretta o promuovere il gioco d'azzardo che ha un giro di 90 miliardi l'anno e con tutto quello che abbiamo già detto anche con il dottor Mauro Croce qui di Verbagna tante volte sul pericolo del gioco d'azzardo e sui grandi guadagni e sulle grandi dipendenze non so se ho fatto bene ma mi sembrava giusto non tacere e proprio pochi giorni fa tonio dell'olio scriveva sul sito di mosaico che la regione Marche ha approvato all'unanimità una legge per quello che nelle sue competenze che cerca di mettere un argine ai danni provocati da chi specula sulla fragilità altrui proprio nelle Marche nel 2015 la collettività ha dovuto farsi carico della cura di 420 casi di scommettitori compulsivi e questo è solo nelle Marche e credo che a tutti noi capita a volte di vivere delle situazioni di vedere dei soprusi delle cose ingiuste di vedere magari chi è più forte che umilia il più debole e ci si chiede ma taccio o non taccio ma se parlo mi cerco rogne vado a cercare casini forse è meglio che faccio finta di non vedere io credo che i tempi che stiamo vivendo siano davvero tempi che ci chiedono di non tacere a cominciare da quello che ho vissuto io su questo aereo con l'invito ai grattevinci però uno dice vabbè ma il grattevinci un euro e ce lo troviamo in tutte le situazioni autogrill in tutte le occasioni e sappiamo poi come diventa una malattia compulsiva e tutte le conseguenze di cui dicevo credo che non si possa neanche tacere di fronte a un leader politico che preferiscono nominare che in questi giorni ha parlato di nei confronti degli stranieri che anche in italia c'è bisogno di una pulizia di massa via per via quartiere per quartiere no signor salvini questo ci indigna possiamo avere pareri diversi da esprimere più o meno in modo democratico ma ricordare la pulizia di massa vuol dire ricordare quello che è stato il nazismo i campi di concentramento abbiamo ricordato da poco la giornata della memoria e anche in italia questo è successo no non possiamo tacere è non solo vergognoso ma ci indigna davvero non ha cittadinanza lo dico da credente da prete lo dico da uomo da cittadino credo che ci debba essere un limite al pudore ma un limite anche al rispetto della democrazia invocare la pulizia di massa vuol dire ricordare un passato che rischia di essere ancora molto presente non possiamo tacere neanche davanti a quello che ricordiamo spesso con don angelo sta succedendo in palestina proprio in questi giorni abbiamo ricevuto lettere di una suora che dice qui arrivano i soldati israeliani e distruggono le case alle persone proprio in questi giorni l'abbiamo accennato l'altra volta la legalizzazione di migliaia di case occupate costruite dai coloni che occupano il territorio palestinese questo è davvero vergognoso e in questi giorni a rischio anche la scuola di gomme siamo di fronte a un silenzio un piccolo lembo di terra tra gerico e gerusalemme una scuola di gomme frequentata da circa 200 bambini che da anni abitano questo villaggio beduino di canal amr è una scuola costruita da una ong vento di terra ma anche con il contributo della cooperazione italiana e della cei la conferenza episcopale italiana allora non possiamo tacere noi ma non può tacere neanche la responsabilità della cooperazione italiana della chiesa italiana distruggono le cose che hanno costruito anche con i nostri soldi italiani allora non possiamo tacere anche di fronte a un grido ormai continuato che rischia di non fare notizia tra l'altro il prossimo primo marzo ricorre l'anniversario dell'inizio della costruzione del muro quasi 800 chilometri un muro non di di protezione ma di separazione un muro tra i tanti di questi tempi allora non tacciamo di fronte ai sopprusi ai muri a volte i soprusi sono piccoli li vediamo magari sul marciapiede delle nostre città e a volte le vediamo a livello mondiale come dicevo così come non possiamo tacere di fronte anche qui al silenzio di un po di tutti davanti alla modifica non scritta ma quasi tacitamente avallata della costituzione il nuovo libro bianco della sicurezza internazionale della difesa le decisioni prese dal governo per cui la difesa della patria viene riformulata quale aperte virgolette contributo la difesa collettiva dell'alleanza atlantica e al mantenimento della stabilità delle aree incidenti sul mar mediterraneo al fine della tutela degli interessi vitali e strategici del paese e quindi non più la difesa della patria ma la difesa degli interessi della nato eccetera eccetera sappiamo cosa vuol dire sigonella il muos i grossi interessi poi chi a pagarne magari chi ne paga di più sono i migranti sono i più poveri ma il mar mediterraneo viene vista come un'area di interessi allarmante l'abbiamo scritto come pax cristo in un comunicato e il fatto che il nuovo modello apre le porte delle forze armate a dirigenti provenienti dal settore privato che potranno ricoprire gli incarichi di massimo livello e permetteranno ai potenti gruppi dell'industria militare di pilotarle secondo interessi legati alla guerra l'industria militare viene definita nel libro bianco pilastro del sistema paese no noi non possiamo accettare che l'industria militare sia il pilastro dell'italia abbiamo altre cose più interessanti più belle che creano vita e non morte allora di fronte ai 23 miliardi che l'italia spende in questo 2017 64 milioni al giorno per le spese militari diciamo no io sono stato nella valle dei templi in questi giorni ed aggrigento abbiamo ben altre cose di cui essere orgoglioso orgogliosi che potrebbero anche diventare fonte di reddito di vita e non di morte e non possiamo tacere ci viene ricordato vediamo adesso la copertina del libro da un grande testimone di cui abbiamo già parlato joseph mair nusser l'uomo che disse no a hitler il 24 febbraio del 1945 moriva mentre veniva trasportato sul carro bestiame verso il campo di dachau era stato condannato a morte perché aveva scelto di non giurare a hitler aveva casa la moglie e un bambino albert di due anni joseph mair nusser verrà proclamato beato il 18 marzo prossimo al mattino sabato 18 marzo nella chiesa di bolzano io credo sia importantissimo ci ritorneremo su in questo mese che ci separa dalla sua beatificazione perché è un cristiano un uomo è morto con il vangelo e il messale in mano è un uomo che disse già negli anni precedenti poi quando si trattava di giurare al fuhrers al fuhrer scrisse se nessuno avrà mai il coraggio di contrastare il nazionalsocialismo questo sistema non crollerà mai era il 4 ottobre del 44 lo leggiamo sul libro di francesco comina edizione il margine e poi continua signor maresciallo maggiore dice joseph io non posso giurare a hitler i compagni tentano di convincerlo tornano tornare sui suoi passi a salvarsi la vita niente da fare intorno noi c'è il buio aveva scritto già alla metà degli anni 30 pensate il buio della miscredenza dell'indifferenza del disprezzo e della persecuzione dare testimonianza oggi è la nostra unica arma ufficiale padre di famiglia presidente dell'azione cattolica di bolzano viene arrestato nel febbraio 45 viene condannato a morte messo su questo treno carro bestiame verso daccao e il 24 marzo del 45 muore su questo carro con il vangelo e il messale in mano ecco ricordare l'uomo che disse no a hitler è un invito anche per noi oggi a non tacere visto che lui non ha taciuto e ha pagato con la vita io sarò il 17 18 a bolzano c'ero anche in questi giorni ho incontrato il figlio che conosco molto bene albert fa un po impressione emoziona molto sedersi a tavola magari con albert e parlare di questo prossimo beato dicendo ma tuo papà lui non se lo ricorda perché era piccolo ma è una grande carica di forza e di speranza credo che il tempo stia quasi per concludere allora ci lasciamo proprio con questo invito a non tacere ognuno nella propria situazione ricordiamo però come sempre facciamo un appuntamento il secondo incontro la primavera di francesco sabato 25 febbraio presso la chiesa di renco la mansarda il primo incontro c'era giannino piana e gli incontri di fine settimana sabato 25 febbraio 2017 a partire dalle ore 15 ci sarà gianfranco bottoni già responsabile dell'ecumenismo della diocesi milano ai tempi di martini anche di tetta manzi e l'incontro avrà come tema il disgelo ecumenico credo che sia anche questo un appuntamento importante ringraziamo gli amici che organizzano sempre gli incontri del fine settimana da tanto tempo ci salutiamo qui l'invito è non tacere ci prepariamo anche la quaresima che inizierà tra pochi giorni un saluto anche da parte di don angelo ci vediamo la settimana prossima ciao ciao ciao